Il mercato elettronico della pubblica amministrazione è un mercato digitale in cui le amministrazioni comprano beni e servizi di cui hanno bisogno. È diventato obbligatorio con la spending review del 2012, i beni e i servizi vanno dai PC ai servizi di manutenzione degli impianti, ai servizi di pulizia per esempio o anche alla cancelleria. Le imprese che vogliono lavorare con le pubbliche amministrazioni su queste tipologie di prodotti devono anche loro necessariamente essere presenti sul mercato elettronico. Le associazioni in categoria ci aiutano per supportare le imprese nell'utilizzo di questo strumento e quindi sia nelle fasi di abilitazione che di presentazione del catalogo o di risposta a un ordine di acquisto.